Caronello, buonasera e un saluto a te, ai tuoi ospiti. Questa settimana anticipiamo un giorno, il campionato riprende e riprende con l'anticipo del venerdì che vedrai in campo la Nocerina e quindi anticipiamo di 24 ore rispetto al solito. Affrontiamo ovviamente, come è consueto, l'analisi del turno che si gioca in questo weekend ed è la dodicesima giornata. La domanda che ci poniamo dopo il turno di sosta che c'è stato la settimana scorsa è quale effetto avrà avuto sulle formazioni di questo girone, sulle 17 consorelle che giocano questo campionato di prima divisione di girone B. Ovviamente a noi interessa molto di più conoscere che impatto avrà avuto su Nocerina e Paganese che avevano vinto nell'ultimo turno, prima dello stop. Ho detto Nocerina e Paganese, non è un caso. In ordine alfabetico, rigorosamente alfabetico, so che su questo gli amici da casa ci tengono, ci si accapiglia, anche se poi vale poco come argomento. Il Pisa, ad esempio, che arriva da sette turni infarciti da vittorie, ben cinque e solo due pareggi, non perde da sette domeniche, di cui due addirittura ottenute fuori casa le vittorie, riuscirà ad avere lo stesso ritmo, riuscirà a riprendere con la stessa vigorosità. E poi invece il Sorrento, che non vince dal 16 settembre, riuscirà a dare una svolta alla propria stagione. La formazione di Bucaro saprà risalire la classifica. Ovviamente lo sapremo in questo fine settimana che comincia, in questa nostra giornata di domani, con il match tra Gubbio e Nocerina. Gli Eugubini sono una formazione che in casa vanno fortissimo. Hanno vinto quattro volte, hanno pareggiato una sola volta, hanno battuto formazioni del calibro di Frosinone, Pisa, Benevente e Viareggio. Tutte formazioni di alta classifica, una è il Benevento che è stata costruita per vincere. Il calcio è bello anche per questo. Chi invece è riuscito a fermare per un turno sul pareggio il Gubbio è stato ad esempio il Barletta di Novelli, quello zemaniano, quello novelliano, quello poco pragmatico che invece adesso si sta cominciando a vedere con Stringara. Dall'altra parte c'è una Nocerina che fuori casa non ha mai perso, però ha vinto una sola volta. E quindi è una squadra che ha collezionato pareggi importanti sui campi di Frosinone e Pisa, che sono lì in testa, nelle posizioni vertice, e ha vinto invece in quel di Catanzaro. Un po' di amarcord per Gubbio e Nocerina. L'anno scorso, poco più di un anno fa, le due squadre si affrontarono al Barbetti ed erano due formazioni di Serie B. Altri ambienti, altra atmosfera, altri umori. Vince il Gubbio, la prima partita vinta dal Gubbio in Serie B in quella stagione con Pecchia in panchina. La Nocerina però dilapidò di tutto, fece o disfece, sbaglio anche un calcio di rigore con Farias. Insomma, avrebbe meritato di vincere. Sarebbe opportuno riprendersi con gli interessi, insomma, in questa domenica, quello che le è stato tolto l'anno scorso. Segnaliamo tra le partite di questo turno due o tre che crediamo siano fondamentali. Il derby Viareggio-Pisa è un derby di maturità per il Viareggio. Le due squadre, le due città sono divise da 24 chilometri, praticamente una piccola striscia di terreno. E c'è grande rivalità. Il Pisa vuole confermarsi leader, il Viareggio vuole cominciare a capire se può prendere la patente. Insomma, se ha raggiunto la maggior età può accomodarsi in pista e sfrecciare verso le posizioni di vertice. Un'altra partita molto interessante dai contenuti tecnici e tattici è quella tra Benevento e Frosinone. Va da sé che il Benevento è una formazione che in molti avevano accreditato all'inizio del campionato tra le papabili e la vittoria finale. Rimane ancora questa la convinzione. Ha cambiato tecnico, è arrivato Ugolotti. C'è sicuramente una quadratura un po' diversa. Dall'altra parte Stellone, al suo primo anno da allenatore sulla panchina della prima squadra, dopo l'avventura alle giovanili, sta già dando i suoi frutti con un'impostazione molto audace. È una partita da vedere come una partita importante e strategica, direi, per il Sorrento e quella con il Perugia. Il Sorrento è in grave crisi. Abbiamo detto non vince dal 16 settembre, ma è una formazione che riesce adesso ad avere un avversario forse il più comodo del momento. È forte il Perugia, ma è in difficoltà. È arrivato Camplone, ma la cura non ha portato ottimi effetti. Un pareggio in campionato, una sconfitta in Coppa Italia. C'è Maretta già in Umbria. Il Sorrento ne approfitti. Abbiamo aperto questo servizio e chiudiamo con la Paganese. Abbiamo aperto la Paganese, chiudiamo con la Paganese. La formazione azzurro-stellata era chiamata a vincere una partita fuori casa e l'ha fatta. Ne auspicavamo la vittoria. E ha vinto a Barletta. Adesso ci attendiamo una continuità e quindi ancora una vittoria. Una formazione che se dovesse riuscire a vincere, e lo fa con continuità negli ultimi tempi, perché ne ha vinte tre nelle ultime quattro partite giocate, potrebbe aspirare davvero a una zona play-off molto spinta, direi molto vicina alle prime, primissime posizioni. Un curriculum, un cammino, un percorso da batticuore. Quello che praticamente ci ha fatto preoccupare in questa settimana di Gianluca Grassadonia, al quale va ovviamente il nostro pensiero. È ritornato già in forma, tutto a posto, soltanto uno stress. Caro mister, ti capiamo, è una stagione molto stressante, una stagione anche ricca di emozioni. Però cerca di tenere duro, perché a quanto pare questa Paganese di emozioni ne potrà regalare ancora molte. Quindi ci sarà bisogno del miglior Grassadonia e dovrà chiaramente mettere in campo anche la sua forza, non soltanto tecnica e tattica, la squadra, ma anche fisica e psicologica con il mister in testa. Intanto però bisogna battere l'Andrea, l'Andrea dell'ex Cosco, al quale bisognerà così tirare uno sgambetto quasi carnevalesco. Non è il tempo, ma credo che sia opportuno invece batterlo una strena natalizia per sognare, chissà, magari una posizione di vertice che neppure era stata pensata ad inizio di stagione. Buona continuazione intanto a Tenello, credo che ci sia la pubblicità, poi ovviamente ritornerai a parlare con i tuoi ospiti. Saluto sia Enzo Criscuolo che Romondini, si parla di solidarietà anche e non solo di calcio e questo va a merito della trasmissione e dei tuoi ospiti.